Non è che non sognavo, io ho sempre sognato e da piccola diciamo mamma mia quanto vorrei fare alla cantante. Quando questo sogno in piccola parte si era avverato, ho detto wow, perché era talmente bello quello che stavo vivendo e nello stesso momento mi faceva tanta paura. Sarò in grado di affrontarlo? Sto andando da Napoli a Firenze e ovviamente per prendere le ore di tragitto, per perdere un po' di tempo perché magari ti fermi all'autogrill per il caffè e ovviamente poi il resto del tempo devi fare delle cose molto intelligenti e quindi la prima cosa che fai è, non so, le canzoni dello Zecchino d'Oro. Non ci si ferma mai, a parte il cantare per fare un albero, ci vuole legno era. Secondo me è un sentito va così, cioè per fare l'albero di cento, cioè fai in tavolo. Succede anche che la mia big family mi dà delle certificazioni di brani e quindi mi fanno proprio il quadretto stupendo fino a qui con la foto, il disco e io me lo prendo a casa.